In questo video parlo di dolci e bevande zuccherate. Lo zucchero è fra le principali cause di obesità fra i bambini, i giovani e gli adulti e porta a una serie di conseguenze sulla salute, come il sovrappeso, il diabete e le malattie cardiovascolari. Lo dice un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo zucchero, così come il sale, ha dunque degli effetti nocivi sulla salute, se consumati in modo eccessivo. Ma se sulle confezioni di prodotti come sigarette o alcolici esistono indicazioni grafiche che ricordano al consumatore di bere in modo responsabile o che fumare fa male, sulle confezioni dei prodotti dolciari o sulle bevande zuccherate non esistono indicazioni a riguardo, ma solo le tabelle nutrizionali. Io una soluzione ce l'ho ed è molto semplice. Sulle confezioni dei prodotti dolciari o sulle bevande zuccherate basterebbe applicare un'etichetta di questo tipo. Qui con me ho due prodotti contenenti zucchero, un'aranciata e una merendina, una semplice merendina che si mangia a colazione. Io ho preparato queste due etichette che secondo me dovrebbero essere applicate su prodotti di questo tipo contenenti zucchero. La prima etichetta riguarda consuma moderatamente. Consuma moderatamente perché tutti gli alimenti contenenti zucchero vanno mangiati e consumati in modo moderato. La seconda è limita la quantità di zuccheri. Secondo me tutti gli alimenti con dello zucchero dovrebbero riportare delle indicazioni sulle etichette di questo tipo. Consuma moderatamente e limita la quantità di zuccheri. Una soluzione semplice che potrebbe sensibilizzare le persone riguardo il consumo di zuccheri e delle conseguenze sulla salute. Grazie. 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 Grazie.